50 milioni di euro per il rinnovo del contratto del personale sanitario reperiti dal bilancio autonomo non essendo stata prevista dal governo centrale la copertura di tali spese nel fondo sanitario nazionale. 3 milioni di euro per far fronte alle posizioni debitorie rivenienti dalle gestioni liquidatorie delle ex unità sanitarie locali ma anche il contributo regionale straordinario di 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 legato alla gestione corrente dei consorsi di bonifica commissariati a copertura delle spese di funzionamento fino al perfezionamento della costituzione del consorzio di bonifica centro sud puglia. Sono alcuni dei provvedimenti previsti nella manovra di bilancio della regione puglia che ha cominciato il suo cammino nelle commissioni consigliari e approderà in aula nel dibattito calendarizzato per venerdì 21 e sabato 22 dicembre. 6 commissioni su 7 hanno già espresso parere favorevole al documento di economia e finanza per il 2019-2021 sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il pluriennale 2019-2021. Nelle commissioni affari generali, sanità, industria, agricoltura, ambiente, lavoro e affari istituzionali si è registrato il voto contrario delle opposizioni di centro-destra del Movimento 5 Stelle. Oltre alle risorse destinate alla sanità nel prossimo bilancio è prevista anche in materia ambientale l'assegnazione all'Ager, l'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti di 3 milioni di euro per il 2019. Per le spese di rimozione dei rifiuti presenti sulle aree costiere è stato inoltre previsto un contributo di 4 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2019-2020 e 2021. In materia di trasporto pubblico locale è previsto un contributo di 11 milioni e mezzo per l'esercizio 2020 e di 23 milioni per il 2021 in favore della città metropolitana di Bari, delle province e dei comuni.